YouTube continua la pubblicazione di video dedicati al greco del quinto anno del liceo classico, in particolare una serie di video sugli oratori. Oggi è di casa Isocrete, un passo piuttosto lungo rispetto al solito, che però ci permetterà di mettere a punto la conoscenza di alcune regole, in particolare sul periodo ipotetico, sull'uso di AN, sul participio sostantivato, sulle proposizioni consecutive, sull'ottativo potenziale e poi altri argomenti che strada facendo potremmo mettere in chiaro. A questo punto non resta che incominciare. Come sempre si parte dai predicati verbali, abbiamo ezelon, epicheiruntes, attenzione che c'è un oi, quindi questo è un participio sostantivato, coloro che si accingono ad educare, poi c'è legein che è un infinito, c'è un cai congiunzione e c'è un poieisai e un emelon, imperfetto da mello, epitelein che è un infinito presente. E poi ci interessa molto questo hon che non è un verbo ma che fa da snodo della mia proposizione relativa, sulla quale poi ritorneremo a breve. Altri verbi abbiamo equon che è un imperfetto indicativo da au cuo, oi tolmontes, coloro che è il participio sostantivato, alla zone westai, tolmao significa osare, quindi vuole l'infinito, pepoiecasin, forma interessante, riconosco subito il raddoppiamento, quindi questo è un poieo, è un perfetto indicativo, terza persona plurale, è un perfetto indicativo attivo, poi c'è un hoste che mi introduce una proposizione consecutiva il cui verbo è dokein, da dokeo, infinito presente, bulewezai, dokeo significa sembrare e bulewezai è il verbo che dipende da dokeo, bulewezai significa decidere e questo significa che abbiamo a che fare con un'infinitiva il cui soggetto potrebbe benissimo essere rappresentato da questo tus hierumenus, participio sostantivato e poi c'è un ton diatribonton che ci fa qui un participio sostantivato al genitivo, lo scopriremo a breve. Tis è il mio pronome interrogativo, an miseseien, forma molto interessante che trascrivo sotto perché questo miseseien dunque mi orienta il sigma perché evidentemente ho a che fare con una forma dell'auristo ma la presenza dell'aiota mi dice anche che si tratta di un ottativo auristo e questo infatti è una forma secondaria rispetto a misesei inteso come ottativo auristo primo dal verbo miseo che significa odiare. Quanto al costrutto abbiamo un an a fianco e per questa ragione l'ottativo ha un valore potenziale quindi chi odierebbe oppure potrebbe odiare. Poi abbiamo catafroneseien, stesso discorso, questo zeien sarebbe zai nella forma principale, è un altro ottativo auristo questa volta da catafroneo che vuol dire disprezzare e si costruisce con il genitivo. Ecco lo ton diatribonton, participio sostantivato da diatribbo quindi è un participio presente, poi c'è un hoi che è un pronome relativo, prospoiuntai è il mio indicativo presente medio passivo da prospoieo, zetein infinito da zeteo ricercare e poi leghin infinito presente e picheirusin che è il mio indicativo presente, picheireo verbo contratto e poi c'è il punto di domanda finale che in greco appunto è fatto con il punte virgola. Ripartiamo da sopra, partiamo da questo ei, ei ezelon è la mia protasi del periodo ipotetico e la mia apodosi invece è qua, an equon, periodo ipotetico costruito con due indicativi imperfetti. Si tratta di un periodo ipotetico dell'irrealtà nel presente, lo riconosco come tale perché appunto c'è un ei ezelon e poi c'è equon an e nella traduzione ricorro al congiuntivo imperfetto e al condizionale presente. Se tutti volessero non sentirebbero, questa è la traduzione, questa è l'ossatura del discorso. Eipantes ezelon, dunque, eipantes oie picheiruntes paideuen. Se tutti coloro che si accingono a educare volessero che cosa? Dire alezè, dire cose vere, dire la verità. E poi c'è tuton, ha, emelon epitelein, che cosa è successo? È successo che qui c'è stata un'attrazione del relativo, il relativo è l'accusativo, ma assume il caso indiretto del suo antecedente e poi siccome sono nello stesso caso dimostrativo e relativo, il dimostrativo si elide. E quindi io devo considerare che nella frase che sto traducendo il senso è, e se volessero formulare promesse non maggiori di ciò che stanno per compiere, di ciò che si accingono a compiere, uc an cacos equon, qui ci serve il dizionario. Cacos acuo hypotinos significa sentir parlare male di sé, da parte di qualcuno, avere una cattiva reputazione. Questo è sotto acuo ed è un uso particolare di acuo con l'avverbio. Ritorno sopra e verifico come in effetti ci sia anche hypot. Quindi non godrebbero di una cattiva fama da parte degli inesperti, da parte degli ignoranti, da parte di coloro che non sono istruiti. La riformuliamo. Se tutti coloro che si accingono ad educare volessero dire la verità e non formulassero promesse maggiori rispetto a ciò che devono o si accingono a realizzare, non godrebbero di cattiva fama presso coloro che sono inesperti. Anche qui ti porto sul dizionario e puoi verificare che tra i costrutti di Poieo c'è questo sotto che è oste con l'infinito. La traduzione è far sì che, fare in modo che. Quindi hanno fatto sì che sembri e poi segue la proposizione infinitiva. Ci metto una barretta qui. Il soggetto è tus airumenus razzimein, che coloro che preferiscono starse in inozio, bulewessai ameinon. Ameinon è un comparativo dell'avverbio, uno dei comparativi di Agazzò, se ameinon ameinon si traduce come meglio, alla forma del neutro, quindi a valore avverbiale. Hanno fatto sì che sembri che coloro che preferiscono oziare decidano meglio, prendano una decisione migliore, tondi a tribonton rispetto a coloro che si dedicano alla filosofia. E questo è il senso di questa prima parte. Dopodiché, l'ultima frase si apre con un tis. Chi infatti, uc an miseseien, chi infatti non potrebbe odiare hama al contempo e non potrebbe disprezzare proton innanzitutto, chi tondi a tribonton, coloro che si dedicano alle contese, hoi, contese eris, nel senso di lite, di contesa, di diverbio, i quali simulano zetein tenalezeian, però c'è un me, i quali simulano sì di cercare la verità. E utsus dee, ma subito, enarcheton epangelmaton, epangelma vale come dichiarazione annuncio, ma subito è il principio delle loro dichiarazioni, epichei rusin, si accingono a dire il falso, leguin pseudè. E questo è la traduzione. Ripercorriamo il senso di questo passo, che ovviamente è estrapolato da un contesto più ampio, e quindi dobbiamo, come dire, andare ad intuito e cercare di capire, però, qual è il senso del testo che abbiamo tradotto per verificare eventuali incongruenze. In questa fase è fondamentale ripercorrere il testo con due parole. Allora, gli educatori, se volessero dire la verità e se non facessero promesse maggiori rispetto a quello che effettivamente possono realizzare, sicuramente non godrebbero di cattiva fama da parte degli inesperti. E coloro che invece si vantano determinano questa conseguenza che sembra quasi che chi sta in ozio, chi sceglie l'ozio, abbia scelto meglio rispetto a chi si occupa di filosofia. E c'è una domanda retorica alla fine che passa per l'odio e per il disprezzo. Chi, infatti, non odierebbe, non disprezzerebbe, chi perde tempo nelle dispute e che in realtà simula di voler dire, di voler cercare la verità e invece fin da subito trattano del falso. Questo era il lavoro proposto per oggi, la traduzione di un passo di Isocrate, testo complesso, articolato. Spero che il lavoro sia stato utile e se così è stato, lascia pure un like se avessi delle richieste in particolare o dei suggerimenti su video da realizzare su argomenti specifici, approfitta, lascia la nota nel commento e se non l'avessi ancora fatto, beh, ben arrivato, ben arrivato, iscriviti pure sul Berga YouTube e vale sempre il passaparola. Buon lavoro!